Dino Mavarese in piena emergenza. I bianco-blu giocano all'anticipo di campionato stasera alle 19 contro l'Open Job Metis, senza poter contare su Eamantas Benjus e Kaspar Treyjer. Il primo, già assente in Champions, nella partita vinta dalla Saragozza, soffre i postumi di una contusione al ginocchio, rimediata nel match con la Reier. Per il secondo, nulla di grave, ma solo la necessità di guarire da qualche piccolo problema fisico. Davanti ai sasseresi, secondo in classifica, il fanalino di coda della regular season. I lombardi però vogliono vendere cara la pelle. Vogliamo salvarci con tutte le nostre forze di cara l'ala. Niccolò De Vico, questo è il solo obiettivo che abbiamo in testa. De Vico è una delle novità, insieme al coach Bulleri e nigeriano Egbunu, del match di andata. Al palacerra di Migni, lo scorso novembre, il roster sasseresi quasi passeggiò sui Varesini. Una sfida terminata con un eloquente 104-82 e che vide protagonista, oltre proprio a Benjus, top scorer con 23 punti, anche Justin Tillman. Nel frattempo finito all'Apo e il Tel Aviv è autore di una delle migliori prestazioni della breve esperienza nel banco. Oggi i motivi sono diversi e sarà complicato per gli uomini di Pozzicco superire l'assenza delle due ali. L'alternativa è puntare a canestro, perdendo però l'incisività dai 6,75. Altro fattore fondamentale, non finire la benzina. Martedì, infatti, il roster sardo è attesa a una nuova sfida europea contro i cechi del Nimburg, sempre in trasferta, con cui dovrà cercare la vittoria per non compromettere il cammino europeo.